ciao a tutti benvenuti nel canale confessioni interessanti gli ultimi anni della mia vita erano stati piuttosto tranquilli ma un giorno a casa del mio amico liam tutto cambiò suo figlio alton era a capo di una giovane rock band aveva un carisma e una sicurezza che lo rendevano irresistibile agli occhi degli altri quel giorno mi ritrovai da sola con lui il pomeriggio iniziò come tutti gli altri liam uscì per una commissione dicendo che sarebbe tornato entro un'ora e si chiuse la porta alle spalle mi sedetti sul divano pronta a rilassarmi un po all'improvviso la porta si aprì ed entrò alton aveva quell'aria da rocker in gamba ciao disse con un grande sorriso lasciando la sua giacca di pelle su una sedia mi chiese di mia madre e gli dissi che sarebbe tornata presto per qualche motivo sentì il mio cuore battere forte alton aveva quell'energia magnetica che hanno le persone di successo si sedette di fronte a me incrociò le gambe e mi guardò dritto negli occhi allora siamo soli disse con un sorriso scherzoso cercai di ignorare il suo commento come una semplice chiacchierata casuale ma il suo tono mi rese improvvisamente nervosa alton iniziò a parlare della sua band delle loro esibizioni e delle ragazze che lo seguivano sempre aveva un modo di parlare malizioso che dimostrava che era abituato a ottenere ciò che voleva poi cambiò improvvisamente argomento sai ho sempre pensato che tu fossi l'amica più carina di mia madre disse sorprendendomi sentì il mio viso diventare rosso stava davvero flirtando con me sembrava assurdo ma il modo in cui mi guardava lo faceva capire la sua sicurezza era disarmante il suo sguardo intenso e diretto alton si alzò in piedi con un sorriso sicuro e un po audace ho qualcosa da mostrarti disse ho appena scritto una nuova canzone nella mia stanza il suo invito era diretto quasi una sfida e per un attimo non riuscì a trovare le parole giuste lo fissai cercando di capire cosa intendesse perché dobbiamo andare in camera tua chiesi cercando di mantenere la calma qualcosa dentro di me mi metteva in guardia da ciò che poteva suggerire ma ero anche curiosa alton rise con sicurezza dicendo che aveva lì la sua chitarra e la sua attrezzatura e che era più tranquillo ascoltare la musica nella sua stanza stavo per rispondere ancora incerta sul da farsi quando improvvisamente la porta si aprì liam era tornato alton sembrava un po sorpreso mi salutò con un sorriso che sembrava nascondere più di quanto mostrasse lo rifaremo disse con fermezza annui sentendomi sollevata ma anche confusa nei giorni successivi non riuscì a smettere di pensare a quel momento ricordavo quanto fosse stato difficile gestire quella situazione come il mio corpo avesse reagito quando mi aveva suggerito di andare in camera sua continuavo a interrogarmi dovevo accettare avevo fatto bene a non fermarlo mi sentivo confusa un pomeriggio mentre guardavo un film con mio marito qualcosa nella trama mi ha fatto pensare che si trattasse di un giovane ventenne che aveva una relazione con una donna sposata alcune scene sembravano riflettere i miei stessi pensieri mi sono rivista nel personaggio principale una donna stanca della sua vita di routine che cercava qualcosa per sentirsi di nuovo viva sembrava una follia ma una mattina mentre facevo colazione il mio telefono ha suonato era un messaggio di halton diceva che stava cercando un appartamento per diventare indipendente e essendo un agente immobiliare pensavo di poterlo aiutare era solo una coincidenza o c'era qualcosa di più nella sua richiesta nonostante i miei dubbi iniziali accettai di assisterlo certo posso mostrarti alcune opzioni nel quartiere risposi cercando di sembrare professionale in fondo alla mia mente non potevo negare la curiosità che aveva suscitato in me gli dissi di fissare un appuntamento per mostrargli alcuni appartamenti nelle vicinanze quella mattina mentre mi preparavo mi ritrovai a prestare molta attenzione al mio aspetto scegliendo con cura i vestiti e il trucco è solo un lavoro continuavo a ripetermi cercando di convincermi che non c'era nient'altro in ballo nonostante i miei sforzi per rimanere professionale non potevo fare a meno di sentirmi nervosa per l'incontro con alton gli avrei mostrato le case i suoi tatuaggi la sua corporatura atletica quell'aria da rocker presuntuoso e seducente non lo vedevo più solo come il figlio della mia amica ma come un vero uomo in una casa mentre gli stavo mostrando la cucina alton si avvicinò silenziosamente mentre aprivo un cassetto per mostrargli i piatti osò sussurrarmi all'orecchio ti mangerò proprio qui non potei fare a meno di voltarmi e chiedergli cosa stesse facendo questo è fuori luogo alton dissi prima che potessi reagire si avvicinò ancora di più e mi spinse contro il frigorifero sfiorando con le labbra il mio colpo poi iniziò a baciarmi mi sono lasciata prendere da quel momento ma poi ho capito cosa stava succedendo lo spinsi delicatamente via e lui fece un passo indietro alton non è giusto dissi cercando di riprendere fiato non possiamo farlo sono un'amica di tua madre e sono sposata mi guardò con un misto di desiderio e confusione mi dispiace disse infine ma non posso farci niente c'è qualcosa tra noi che mi attrae molto mi voltai sentendomi sopraffatta capivo che era vero che c'era un legame ma lui era il figlio della mia più cara amica e io ero sposata dobbiamo essere professionali insistetti anche se la voce mi tremava un po non possiamo lasciar correre oltre alton annui ma dai suoi occhi capì che non era del tutto convinto finimmo di visitare la casa in un silenzio imbarazzante dopo quel giorno ero ancora più confusa era rischioso continuare così ero combattuta tra ciò che era razionale e ciò che desideravo cercavo di concentrarmi sulla mia vita quotidiana sul lavoro sulla famiglia ma l'immagine di alton e quel momento di tensione in cucina continuavano a perseguitarmi l'idea di entrare in intimità con lui era allettante anche se mi rendevo conto di quanto fosse rischiosa la situazione era solo un giovane uomo con un atteggiamento presuntuoso privo di buon senso e di rispetto un giorno mi incontrai con liam per un caffè la nostra amicizia mi è sempre piaciuta ma questa volta con tutto quello che stava succedendo mi sentivo un po a disagio parlammo di varie cose finché liam non accennò a qualcosa che riguardava proprio alton sai alton ha iniziato a frequentare una ragazza che è una fan del suo gruppo disse liam con un sorriso sembrano piuttosto entusiasti della cosa sentire quelle parole mi fece rivoltare lo stomaco sentì un'improvvisa fitta di gelosia che mi colse alla sprovvista ah sì riusci a dire cercando di apparire disinvolta com'è liam mi descrisse con entusiasmo la ragazza ma io riuscivo a malapena a concentrarmi sulle sue parole l'idea che alton stesse con un'altra mi faceva ingelosire anche se non volevo sentirmi così è molto carina e sembrano avere molte cose in comune continuò liam sono felice per alton penso che sia un bene che abbia qualcuno certo è importante avere qualcuno di speciale dissi forzando un sorriso perché mi sentivo così che diritto avevo di essere gelosa di alton dopo il nostro incontro tornai a casa quello che liam mi aveva detto mi aveva colpito più di quanto volessi ammettere il pensiero di poter perdere alton anche se non era mai stato mio mi ferì profondamente quella sera agendo d'impulso presi il telefono e mandai un messaggio ad alton ciao alton ho l'appartamento perfetto per te ci vediamo domani alle 17 e te lo mostro non fare tardi perché avrò altri clienti subito dopo aver inviato il messaggio mi sono pentita che cosa avevo fatto ma una parte di me desiderava vederlo e stargli vicino annullando tutti gli avvertimenti della mia coscienza il giorno dopo mi preparai per l'incontro con molta eccitazione scelsi con cura i miei vestiti guardandomi allo specchio e chiedendomi se stessi facendo la cosa giusta ma era troppo tardi per dubitare arrivai all'appartamento un po prima delle 17 d'oro per assicurarmi che tutto fosse pronto alton si presentò puntuale con quel sorriso che mi conquistava sempre questo posto promette bene commentò mentre entravamo gli feci fare un giro spiegandogli le caratteristiche di ogni stanza ma la mia mente era altrove infine raggiungemmo la cucina il luogo in cui le cose erano state tese l'ultima volta alton si appoggiò al bancone e mi guardò dritto negli occhi questo posto è fantastico ma credo che ci sia qualcos'altro che entrambi vogliamo esplorare disse con voce tranquillamente sicura in quel momento persi il controllo fui io a spingere alton contro il frigorifero e a iniziare a baciarlo lui rispose con la stessa intensità sorprendendomi mi prese in braccio e mi fece sedere sul bancone della cucina sembrava di essere usciti da un film quello che seguì fu un pomeriggio caotico che riportò alla luce ricordi che pensavo di aver seppellito fu come una liberazione da anni di repressione e di nascondimento dei miei desideri mi sono lasciata andare completamente in quel momento di passione e adrenalina io e alton ci siamo abbandonati a quel momento dimenticando tutto il resto quando è finita mi sono resa conto di non avere rimpianti al contrario mi sono sentita sollevata come se avessi lasciato andare qualcosa che mi pesava da tempo mi sentivo viva con l'adrenalina che mi scorreva dentro mentre stavo per andarmene guardai alton anche lui sembrava diverso sarà l'ultima volta chiesi alton si avvicinò mi prese la mano e disse non ne sono sicuro ma so che non mi pento di nulla ho confermato che preferisco le donne della tua età disse infine con grande coraggio lasciai quel posto sapendo di aver superato un punto di non ritorno quello che era successo tra me e alton era intenso e reale e anche se sapevo che era sbagliato non potevo ignorare i miei sentimenti l'idea che sarebbe stata l'ultima volta sembrava improbabile così per la prima volta nella mia vita ho tradito mio marito con il figlio della mia migliore amica la cosa più strana è che non mi importava volevo di più sarei stata una persona senza rimpianti non lo so ma la verità è che mi si è aperto un nuovo mondo di emozioni e di piaceri che volevo esplorare sempre di più cari amici se vi è piaciuta questa storia vi prego di condividere i vostri pensieri nei commenti e di mettere mi piace o non mi piace forse vorrete iscrivervi al nostro canale grazie a tutti e condividiamo altre storie